Buonasera, benvenute e benvenuti. Grazie della calorosa presentazione, siete tanti. Vera è di casa in questo posto e a Torino, non ha bisogno di presentazioni, come si dice. Allora, noi non ci siamo preparate niente, però è affascinante fare questa conversazione partendo dall'errore, dallo sbaglio, dal legno storto, perché secondo me il campo di cui Vera si occupa, e che è il linguaggio, le parole, la comunicazione, la grande relazione del nostro tempo, la comunicazione, è quel campo in cui l'errore è una delle cose più importanti, perché, e credo che lo sappiamo tutti, siamo un pubblico avvertito, ma insomma le parole sono costitutivamente inesatte. La prima cosa su cui vorrei portarti è questo, Vera, quello che le parole non... Se le parole fossero esatte, che cosa succederebbe? Perché le parole io credo siano fatte di qualcosa che c'è, rispetto a quello che indicano, no? Prendiamo la parola rosso, indica qualcosa che c'è, la mela rossa, e anche qualcosa che non c'è. Quello di cui parliamo noi, quando non ci capiamo, è quel qualcosa che non c'è. Mazza, l'ha messa subito sul filosofico. L'ha messa sul filosofico. Ok, ti hai svegliata bene stamattina, ti vedo tonica. Dopo arriviamo al dissing. No, va bene, è benissimo. Allora, basta che ci fermiamo al dissing e non arriviamo con altre iniziali. Vabbè. Allora, intanto buonasera. Questo è un posto che mi accoglie sempre con affetto e al quale io torno con affetto, anche se io e te non abbiamo dialogato spesso. Credo che abbiamo all'attivo un solo dialogo ed eravamo con altre persone. Quindi non so cosa succederà fra me e Shandi a questo punto. È bella questa relazione che hai subito fatto, questo legame che hai creato fra parola e errore, la lingua è errore, perché la percezione dell'errore all'interno della lingua è uno dei grandi malintesi del nostro tempo, secondo me. A scuola ci viene insegnato che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Poi quando hai la fortuna di continuare a studiare, approfondire la questione, complice anche un rodari per dire, ti rendi conto che in realtà è nel legno storto linguistico che è la parte più interessante. Cioè, una delle prime cose che io ho imparato studiando le varie linguistiche all'università è stato che ogni errore ha una motivazione. Noi non facciamo errori a caso in lingua, facciamo errori che sono dovuti o di solito al cercare una regola mentale, quindi a regolarizzare dei sistemi. Quindi la lingua, l'italiano, come tutte le lingue vive, è pieno di irregolarità e molti errori nascono dalla volontà di regolarizzare quelle irregolarità. Cioè, ad esempio, il famoso qual è con l'apostrofo. Se la maggior parte delle volte dopo una L noi mettiamo l'apostrofo, ci viene naturale pensare che anche dopo il qual ci sia l'apostrofo, no? E quindi è molto bello quando ti rendi conto che l'errore è il nostro cervello che funziona in maniera attiva rispetto alle cose che abbiamo imparato magari in maniera pedissequa. Prima questione. Dopodiché, l'altro aspetto affascinante dell'errore nella lingua è che la percezione dell'errore cambia. Allora, c'era una cosa molto bella che diceva Luca Serianni, pace è l'anima sua, e diceva molto spesso l'errore, più che alla regola, come possiamo pensare, non so, al codice civile, al codice penale, va paragonato al comune senso del pudore, che è un po' diverso dalla legge, no? Cioè, si muove in un ambito leggermente diverso ed è molto basato sulla percezione che le persone hanno di quella certa cosa lì. Lo stigma sociale che viene ad esempio associato a un errore. Cioè, se io dico se io sarei, se io sarei un poeta, canterei l'azzurro dei tuoi occhi, questa cosa, c'è anche un meme che gira in rete che io cito sempre, anticoncezionali. Pillola, preservativo, se io sarei. Ok? Perché ha uno stigma sociale fortissimo. Tu non esci con uno che dice se io sarei. Anche se magari è una persona meravigliosa, no, dico in generale, poi, diciamo, non so, sto facendo domanda casistica. Può essere anche un refuso momentaneo, l'appsus momentaneo. Guarda, se io sarei è difficile che sia un refuso momentaneo. È emozionato, no? Però, al di là del valore, per esempio, non rende incomprensibile un testo il se io sarei. Tu capisci che, volevo dire se io fossi, e ricostruisci il senso della frase, ma al di là del peso effettivo di quell'errore, il giudizio sociale su quell'errore è molto forte, no? E allora uno dei motivi per cui conviene non fare errori è non esporsi allo stigma sociale. Poi quello che è bello, però, è che la percezione di quello che in un dato momento è dicibile o indicibile cambia. Per cui si fa sempre l'esempio di Giacomo Leopardi che nelle sue lettere scrive abbi, facci, vadi. Ok? Se oggi io uso abbi, facci, vadi, uno pensa fantozzi, battilei. Quindi è diventato, cioè, non abbia faccia, vada, eccetera, eccetera. Quindi cambia anche quello che noi pensiamo essere immutabile come la regola linguistica, la norma, è soggetta a cambiamenti ed è soggetta a cambiamenti sotto la pressione dell'uso. Quindi, l'errore è molto di più di quello che sembra. Quando io a un certo punto ho letto il libro degli errori di Rodari, ho detto, ecco, vedi. Cioè, si può anche fare una didattica basata su quella roba lì, sul recupero dell'errore come qualcosa di fecondo, come qualcosa di generativo. Ed è un po' lì che a me è venuta la voglia di occuparmi delle cose storte. E qui mi viene in mente Bell Hooks quando parla dei margini, quando fa l'elogio dei margini e dice le cose veramente fighe, scusate il francesismo, ma succedono ai bordi, ai bordi delle cose, ai bordi della società, ai bordi della lingua, ai bordi dei vari gruppi, perché il centro è quello più normato, ma è anche quello più stabile e più impermeabile o meno permeabile ai cambiamenti. Non ti ho risposto, ma tanto andiamo a braccio, quindi seguiamo la filosofia di Boris, giusto? Che voi conoscerete. Raccontiamola la filosofia di Boris. Boris è la serie. Boris, non gli Elzin, no, Boris, Boris la serie tv, no, vabbè, che a cazzo di cane. Ecco, benissimo. Cioè, diciamolo. Siamo a Torino, che ho visto, quindi non a Roma, è Boris molto romanocentrica. E poi a pene di canide, come devo dire? No, va bene, però esplicitiamo tutto. Ok, sì, sì, ok, a cazzo di cane. Per esempio, io essendo, pur essendo materana, ma ex romana, non ho mai visto Boris, ammetto. È molto male questa cosa. Ho visto solo il film, io non ho visto la serie, perché non reggo le serie. Ahimè. Eh, vabbè, io invece non reggo i film e guardo solo serie, vedi, siamo complementari. Esatto. Possiamo stare insieme e dividerci la televisione. No, allora, sulla normatività, che è affascinante, allora, la lingua ci serve per convenire su certi significati, no? Però, questi significati, quando è che smettono di essere rappresentativi? E perché noi abbiamo il problema della lingua inclusiva? La parola inclusiva è una parola che a me fa molta paura. Tu, giustamente, nel tuo ultimo libro, che è bellissimo. Quello di cui staremo parlando. Grammamanti, che è uscito per Einaudi qualche mese fa. Aprile ormai, Un sacco, ha fatto già un sacco di strada sto bimbo, sì. Tu parli proprio di questo. Del fatto che la parola inclusiva presuppone sempre che ci sia qualcuno che dà un permesso di entrare. Io ti metto dentro questo altro insieme. E invece noi dovremmo parlare di ampiezza del linguaggio. però che facciamo con le parole quando sono inadeguate uno? E come le inventiamo le parole più giuste per far sì che questo modo di parlare tra di noi ci faccia sentire tutti rappresentati? E soprattutto, ma è poi così importante... No, aspetta. Ma no, aspetta. Ma è così importante rappresentare tutto? Ok. Puoi rappresentare tutti? Com'è che a un certo punto le parole sono diventate insufficienti? Perché io mi sento offesa da una parola e non mi sento capita da te se usi una parola che non mi descrive appieno? Allora, a Sean D'Vascio ho appena scritto l'indice di un libro, ok? Del mio prossimo libro. Dunque... Senza anticipo è gratis. Sottolineiamo perché comunque è il dramma dell'editoria. Partiamo dall'inizio degli inizi. Ok. Le cose non contengono il loro nome. Questo siamo tutti... Perché è importante mettere su una serie di... Posto che... Allora, esistono le cose e poi esiste il reame dei nomi che al di là di chi ha inventato le cose o chi ha creato le cose i nomi invece sono roba nostra, sono cosa nostra. Noi esseri umani nominiamo la realtà. Questo lo facciamo da sempre. È un processo che è necessario per noi perché ci serve per rendere conosciuto lo sconosciuto e rendere raccontabile ciò che prima non era raccontabile e quindi è il nostro modo di scambiarsi informazioni sulla vita, l'universo, tutto quanto. Partiamo dai nostri nomi. Noi siamo... Noi nasciamo e la prima cosa che viene definita a parte il famoso sesso biologico è il nome. Quindi noi nasciamo con due cartellini. Un maschietto, una femminuccia si chiama Luca, si chiama Lucia e con questi primi cartellini noi partiamo per la nostra vita ma è molto importante questa specie di album delle figurine panini che noi iniziamo a raccogliere alla nascita che poi sono le etichette che ci definiscono via via e possibilmente in maniera sempre più precisa. Ok? Quindi se le cose non contengono i nomi se noi nominiamo le cose la domanda che ci possiamo fare è in base a cosa ci nominiamo le cose in base a come le vediamo in base a come le percepiamo in base alla nostra cultura alla tradizione all'abitudine ai giudizi ai pregiudizi posso continuare quindi ogni parola non è un semplice cartellino neutro è un pezzettino una roba un mattoncino Lego che si porta appresso un sacco di ganci a ciò che noi siamo ciò che noi pensiamo ciò che noi vorremmo essere la nostra percezione no è un casino quindi noi creiamo delle reti di parole di significati di significanti prima di tutto che poi diventano reti di significati qui sto un po' citando Saussure va bene? Quindi io creo una rete di parole che rimanda a una rete di concetti la domanda successiva che ci possiamo porre è tutte allora teoricamente tutte le persone possono fare quest'operazione quando io ho detto un'operazione umana che sia tu io il papa chi era Ferragni l'ultima persona che ci capita di incrociare per strada tutti tutte in potenza abbiamo modo di fare quest'operazione di nominare però non è così facile perché poi ci rendiamo abbastanza facilmente conto che questa possibilità di nominare le cose dipende anche dalla posizione che tu ricopri all'interno della società c'è chi lo può fare di più e c'è chi lo può fare di meno c'è chi può addirittura decidere cosa si può dire e cosa non si può dire cosa è giusto dire e cosa non è giusto dire ci sono altre persone che questo lusso questo potere non ce l'hanno e guarda caso di solito chi ha il lusso di nominare più liberamente le cose sta al vertice di varie piramidi di potere chi invece non può per esempio anche solo decidere i nomi con i quali definire se stesso se stessa sta in zone in quei margini famosi che già richiamavo per bell hooks quindi la rostra è una società che assegna un valore molto forte all'idea di normale chi sono i normali varia nel tempo pensate ai corpi delle donne nel corso dei secoli pensate a Rubens poi pensate a Kate Moss pensate a oggi pensate a come cambia ciò che può essere definito bello e normo peso nel corpo di una donna e volendo quell'idea di normatività la si può spostare un po' su qualsiasi aspetto ok quindi quello che succede è che essendo la nostra una società normocentrica chi è percepito come normale ha possibilità di nominare chi è percepito come diverso e questo è andato avanti così per tantissimo tempo noi abbiamo dato per scontato che le persone avessero una diversa un diverso diritto alla felicità la metto proprio in maniera filosofica a seconda di dove nascevano o di che colore avevano la pelle o con che sesso nascevano o se nascevano con una disabilità o se avevano qualche altra sfiga diciamolo pure così va bene quindi se io nasco nera eh mi è toccato ad essere nera i bianchi sono superiori farò la schiava e quando si innescano questi meccanismi succede anche che chi si trova in una situazione subordinata se non ha gli strumenti epistemici per capire che non c'è motivo per essere in una condizione subordinata ci sta noi donne per tornare all'autobiografismo abbiamo accettato per secoli di non votare di non poter studiare di essere addette alla riproduzione e non lo mettevamo tanto in dubbio no? cioè ci ha voluto tanto perché la donna iniziasse a studiare per esempio per conquistarsi degli spazi all'interno della società ho scritto un libro prima di questo che era parole d'altro genere in cui avevo ripercorso la vita di una serie di sante di persone poi diventate sante e per esempio un denominatore comune di molte sante della tradizione antica diciamo dal 300 400 in poi è che queste donne per evitare dei matrimoni combinati diventavano suora e entravano in convento perché era uno dei pochi modi di studiare o diventavi suora o diventavi cortigiana onesta cioè prostituta però potevi studiare perché da prostituta dovevi essere anche in grado di intrattenere il tuo uomo non solo di farci del sesso e quindi era un altro modo per conquistare il logos no? inizia a studiare ti emancipi capisci che non c'è un motivo indipendente per esempio dalla tua competenza della tua intelligenza per essere subordinata però questo è un processo che a lungo abbiamo dato per scontato che ci fossero esseri umani di serie A e di serie B va bene? allora quando tu dici come mai questo sistema si è rotto beh forse perché abbiamo iniziato a fare i conti col fatto che non c'è una giustificazione biologica a considerare superiori certi tipi di esseri umani rispetto ad altri ok? e nel momento in cui se ne rende conto da una parte il subordinato e dall'altra però anche chi fino a quel momento ha ricoperto un privilegio forse inizia anche a esserci un interesse a mescolare le carte e a chiedersi ma non lo so hai mai chiesto a una persona con disabilità come vuole essere definita? se vuole essere definita handicappata diversamente abile disabile persona con disabilità storpia cioè gliel'abbiamo mai chiesto? sapete qual è la cosa stupefacente? spesso no spesso non si chiede alla persona con disabilità come vuole essere definita non si chiede alla persona trans come vuole essere definita non si chiede a qualsiasi categoria come vuole essere definita quindi questo forse è il grande cambiamento che è in atto il riconoscimento che il diverso che diverso non vuol dire differente da una normalità ma vuol dire vario come in inglese diversity non vuol dire differenza vuol dire varietà e quello che sta succedendo a livello linguistico è da una parte la cartina di tornasole di quello che sta succedendo a livello di società ma dall'altra è anche una sorta di avanguardia cioè se io inizio a nominare le cose in maniera diversa questo lo dice Jacopo Melio che è una persona con disabilità inizio a vedere la realtà in maniera diversa e se inizio a vedere la realtà in maniera diversa mi può venire voglia di cambiare la realtà stessa per esempio cambiare le leggi che riguardano che so la disabilità ho risposto professoressa hai risposto grazie hai risposto soprattutto all'altra domanda che ti avrei fatto perché Vera ha un podcast per il post che si chiama Amare Parole e in una delle prime puntate io ricordo che tu avevi raccontato di questa telefonata che ti era stata raccontata da un'ascoltatrice proprio che parlava aveva chiamato un ricordo era un numero verde era una persona disabile che aveva chiamato un teatro ecco e aveva parlato con la persona del centralino dice segnalandogli che poteva usare una parola più accorta rispetto appunto anziché handicappato persona con disabilità e quest'altra e il ricevente aveva messo giù urlando tu non puoi dirmi come devo parlare ecco ti chiedo come facciamo a riconoscere il giusto no cioè come rispondi a uno che ti dice tu non puoi dirmi come devo parlare se i parlanti sono sempre su un piano paritario allora i parlanti dovrebbero essere su un piano paritario ma evidentemente come dimostra anche questa scenetta non lo sono allora da una parte abbiamo il classico soggetto che dice non si può più dire niente e dall'altra una persona con disabilità che forse rispetto una volta ha più autoconsapevolezza e dice no io questa etichetta la rifiuto usa quest'altra è un bello scontro chiaramente per me è uno scontro in cui ha ragione la persona che chiede il rispetto per la sua identità o per le sue caratteristiche quello che succede dall'altra parte è il mancato riconoscimento dell'esistenza di un privilegio il privilegio di essere normali che è un gran privilegio in questa società unito al fastidio legato alla richiesta di cambiare delle proprie abitudini inveterate delle proprie abitudini linguistiche in questo caso ma possono essere abitudini di qualsiasi tipo pensa come è stato difficile smettere di fumare nei ristoranti cioè io ho vissuto il pre quando tu sei giovane me lo ricordo però hai dieci anni meno di me quindi magari l'hai vissuta diversamente comunque mi ricordo che le persone dicevano oh già mai non ci abitueremo mai oppure le cinture di sicurezza vi ricordate quando i caschi in motorino cioè mi vengono in mente delle cose alle quali ho assistito io nel corso dei miei 50 anni di vita e ogni volta le persone dicevano questa cosa non passerà continueremo a fumare nei bar e invece poi piano piano no? siamo cambiati però nella questione linguistica c'è questa tendenza all'abitudinarietà noi più cresciamo e più facciamo fatica a cambiare questo lo dice Douglas Adams ma è un dato abbastanza evidente dall'altra oltre al fastidio di della richiesta di cambiare c'è un'altra questione che spesso viene sottovalutata la lingua è un potentissimo atto identitario cioè io sono le mie parole e quindi se tu mi dici guarda quelle parole che hai usato finora forse le dovresti cambiare io sto attaccando la tua identità e quindi uno si sente colpito cioè come stai dicendo che io non vado bene no sto dicendo che puoi allargare il tuo lessico e magari in certi contesti scegliere questa parola invece che quest'altra ma non sto mettendo in dubbio tutta la tua esperienza esistenziale invece spesso viene vissuto così e il problema dietro 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 perché poi io amo risalire diciamo il più indietro possibile il problema sta in come ci viene insegnata la lingua a scuola questa è una questione essenziale non è uno sfogo contro la scuola cioè la scuola fa quello che può però nel 1975 anno della mia nascita Tullio De Mauro con i gruppi Gischel scrive le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica un documento che trovate online se non lo conoscete leggetelo perché è molto interessante una cosa che lui diceva è la società si sta complessificando quindi richiede degli strumenti cognitivi più complessi alla base di questi strumenti cognitivi più complessi c'è la lingua e fra le altre cose c'è la percezione della lingua come sistema complesso noi siamo abituati per come ci viene insegnata la lingua a considerare la lingua un monolito fuori dallo spazio e dal tempo che noi casomai corrompiamo con l'uso ma è una visione scientifica e completamente sbagliata perché anzi la lingua viva deve evolversi per stare bene per sopravvivere perché nel momento in cui smette di evolversi non è più allineata con le esigenze della comunità dei parlanti e delle parlanti e quindi può succedere che quella lingua inizia a morire e i parlanti abbracciano un altro sistema linguistico che funziona meglio quindi è necessario che la lingua sia in grado di rinnovarsi resistere al cambiamento linguistico quindi è una posizione non solo anacronistica ma anche proprio non scientifica e il richiamo alla tradizione si è sempre fatto così manca secondo me di un elemento fondamentale che è perché si è sempre fatto così qual è il motivo per cui si è sempre fatto così vi faccio un esempio e questa è una cosa in cui cascano anche sommi linguisti maschile non sovraesteso cioè è più una question no è vero è una questione più maschile che femminile ma si spiega anche perché allora io sapete che discuto tanto di questioni di genere avrete fatto caso che sto cercando di usare i femminili ho usato anche già uno schwa davanti a voi nessuno è morto vedete che incredibile siete sopravvissuti anche a uno schwa o così fra capo e collo ma una cosa che spesso mi sento dire anche da esimi linguisti è si è sempre usato il maschile sovraesteso che bisogno c'è di cambiare quello che mi stupisce è che nessuno faccia il passo successivo perché si è sempre usato il maschile sovraesteso cioè possibile che non si veda la connessione tra l'androcentrismo socio-culturale e l'androcentrismo linguistico che a me sembra abbastanza evidente cioè allora stai forse dicendo che se la nostra fosse una società matriarcale noi useremmo il femminile sovraesteso chissà magari no ma magari sì però è indubbio che le nostre storie la nostra storia storia nel senso proprio di materia la filosofia la letteratura la storia della scienza sono a base maschile e quindi come potrebbe non essere a base maschile la lingua che è il derivato il precipitato la cartina di tornasole di una società fatta in questo modo allora dire beh forse si può cambiare la tradizione del maschile sovraesteso non vuol dire dire eliminiamo i maschi cioè non siamo in una distopia in cui c'è un bellissimo racconto di fantascienza uno dei miei romanzi preferiti scusate apro una parentesi di Neil Stevenson grande autore cyberpunk più o meno bravo come William Gibson lui ha scritto un romanzo di 700 pagine lui scrive sempre roba molto grossa che si chiama Seven Eves Sette Eve o Sette Evi e vabbè la luna si è rotta per un meteorite sta iniziando a cascare sulla terra quando cascherà sulla terra ci sarà una specie di inverno nucleare l'umanità sarà estinta e quindi cosa succede hanno due anni di tempo gli scienziati costruiscono l'arca di Noè chi mettiamo sull'arca di Noè c'è la corsa allora c'è quelli che vogliono pagare oppure mettiamoci le menti più brillanti ma non sarebbe giusto perché insomma è alla fine uno scienziato scopo trova la formula ve la faccio breve ci vogliono sette donne che rappresentano le sette stirpi principali diciamo degli esseri umani lì parla ancora di razze ma chiamiamole etnie c'è i maschi basta la provetta e quindi poi verrà ricreata l'umanità con queste sette eve ok e i maschi in provetta perché in fondo il maschio non serve allora io non sono nel senso è molto divertente poi il racconto è una bellissima distopia se vogliamo così ma io non la penso così cioè io sono una grande fan del maschio quindi non è che dico distruggiamo il maschile però sarà arrivato il momento di relativizzare una narrazione che finora è stata considerata universale e unica un punto di vista che forse è uno dei punti di vista ma non l'unico possibile perché non vuol dire nuclearizziamo il punto di vista vuol dire riconoscere che forse ce ne sono anche altri perché scusa perché nei dizionari il maschile è a lemma chi l'ha deciso Dio quando Mosè è sceso con le tavole della legge aveva anche quella supplementare con le norme linguistiche no cioè è una consuetudine però chiediamoci da dove viene quella consuetudine quando l'anno scorso Treccani ha deciso di mettere a lemma sia il maschile sia il femminile in maniera paritaria e mettendoli in ordine alfabetico quindi lo so sindaca sindaco ma direttore direttrice cioè apriti cielo c'è gente che ha gridato ma il sacrilegio cioè quasi quanto il papa nero cioè una roba mai vista invece è una cosa molto logica se ci pensate cioè smettiamola con questa idea dell'androcentrismo sociale e linguistico certo ci sono anche ancora donne che invece chiedono di venire chiamate al maschile che è sempre molto affascinante io mi ricordo sì è affascinante è affascinante diciamo affascinante vorrei restare neutra però invece però ricordo ricordo che Morante e se non mi sbaglio anche Ginzburg ne avevano parlato di questo ma ne avevano parlato negli anni sessanta dicendo io voglio che mi chiamino scrittore perché in quel tempo lì le scrittrici erano collegate al romanzo rosa e quindi era difficile invece farsi intendere come autori e autrici che invece si occupavano d'altro e di letteratura slegata poi dai generi adesso è un po' più appunto bizzarro e affascinante che ci sia questa specie di riflusso per cui devono invece dirsi no allora non so la Venezia che vuole essere chiamata Venezia scusate Beatrice Venezia che vuole essere chiamata direttore Giorgia Meloni che continua a dire che invece queste distinzioni non hanno senso però lasciamo stare perché è un discorso che ovviamente è profondamente ideologico sono interessata invece alla questione dell'errore vera perché l'errore l'errore nel linguaggio nell'errore nell'indicare una cosa in un modo anziché in un altro è l'inizio della creazione no quando io sbaglio una parola sto creando un altro significato allora siccome il linguaggio viene adesso i linguisti le persone come te che si occupano come te di certe cose e fanno certe battaglie vengono accusate di essere normative quindi ecco ti chiedo questo linguaggio che sembra essere diventato normativo il nuovo linguaggio che sembra essere diventato normativo con l'errore che rapporto ha con la creazione dell'errore che rapporto ha allora intanto una chiosa su quello che hai detto prima la devo fare per forza di cose che dice affascinante il fenomeno delle donne che si fanno chiamare al maschile no non è strano non è bizzarro da una parte è frutto di un femminismo del passato dei decenni passati in cui c'era l'idea della parità tramite l'uguaglianza quindi se non c'è differenza fra maschio e femmina è il riconoscimento che siamo tutti uguali poi è arrivato il femminismo della diversità cioè che dice donne uomini altri generi sono differenti e questa differenza dovrebbe finalmente essere percepita non come un accollo come direbbe zero calcare un accollo sociale ma come una forza come una possibilità come un asset come qualcosa su cui investire ricordo che lo slogan era siamo uguali nella differenza che era bellissimo esatto perché cioè allora e questa è la prima questione la seconda questione le donne che tu hai nominato ma anche mi sembra Oriana Fallaci scrittore partivano dal presupposto che scrittrice fosse sminuente ma la questione non è linguistica è di percezione del femminile all'interno della società e della cultura no? quindi siccome la donna è considerata inferiore allora scrittrice è inferiore a scrittore ma non è una questione del sistema interna al sistema lingua è una questione extra sistema lingua quello che succede oggi è che la questione maschile e femminile è diventata anche politica e lo è dalle raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana di Alma Sabatini che sono del 1986-87 quindi a radici profonde lì ha iniziato un po' questa bisecazione questa biforcazione fra sinistra che cavalca il femminismo della differenza e destra che cavalca la tradizione non è un caso che hai citato tutte donne diciamo dell'ambito conservatore Venezzi lo sappiamo Meloni va da sé ma anche Elisabetta Alberti Casellati o a suo tempo anche Irene Pivetti che si definiva cittadino cristiano eccetera eccetera quindi evidentemente c'è una relazione forte una correlazione forte fra posizionamento politico e uso della lingua detto questo la questione dell'errore della norma allora non a caso io lo chiamo linguaggio ampio e non linguaggio inclusivo linguaggio ampio vuol dire un linguaggio in apertura vuol dire un linguaggio che nota la diversity la varietà cerca di tenerne conto ma e qui cito di nuovo un po' una parola si arrabatta si arrangia cerca cerca soluzioni ma è il contrario della normatività ogni tanto mi viene chiesto di fare dei manuali sul linguaggio inclusivo o di fare delle guide dei vademecum alcuni li ho anche fatti ma io dico sempre cioè proprio nell'intestazione nell'inizio nella prefazione questo è il punto di partenza non il punto di arrivo cioè oggi ti dico che sappiamo queste cose che nero con la G per i neri è offensivo che trans usato come sostantivo è offensivo per le persone trans che il disabile è offensivo per le persone con disabilità perché ci dimentichiamo sempre che sono prima di tutto persone con disabilità ma se tu noti il denominatore comune di tutte queste note non è la regola è la visione è la visione che tu applichi alla lingua chi si lamenta della normatività non ha letto cioè secondo me non sa bene di cosa sta parlando che non è una cosa strana perché se pensate fra gli slogan del presente ci sono delle parole come cancel culture eccesso di politicamente corretto woke e se voi chiedete alle persone ma quando tu ti lamenti del woke cosa intendi la maggior parte della gente non sa rispondere basta con questo eccesso di politicamente corretto cosa intendi per politicamente corretto va a fanculo va a fanculo perché non lo sanno perché? perché sono delle parole slogan delle buzzwords ok? delle parole molto discusse che però si sono svuotate di significato hanno avuto una specie di crisi semantica per cui alla fine si usano come si usano dei gusci ma dietro dentro non c'è la polpa non c'è la ciccia quindi nel mio sistema l'errore è fichissimo l'errore è la cosa da cui impari l'errore è anche la cosa per cui magari ti prendi uno sganassone perché dici una cosa offensiva e l'altro non c'ha più tanta pazienza qui ci sarebbe da fare un enorme inciso sul cosiddetto minority stress cioè lo stress di essere parte di una minoranza per cui io magari sbaglio una volta ma a te quello sbaglio capita 70 volte al giorno e diventa un po' fastidioso no? per cui che l'altro si possa adombrare anche più di quello che uno si aspetta per un'etichetta sbagliata ci sta e poi un'altra cosa la normatività è la ricerca di una regolarità no? cioè è la negazione della complessità la norma si dice così e non ci devono essere discussioni e questo è qualcosa che noi ricerchiamo come ricerchiamo il seno materno cioè ci dà sicurezza la regola allora mi devi dire esattamente come no non c'è quasi mai una risposta così netta nelle cose soprattutto nell'ambito linguistico e quindi vuol dire anche accettare l'entropia accettare la complessità e a volte caricarsi dell'errore cioè a me è capitato io ovviamente io fra tutti i gruppi di strani che frequento ci sono alcuni che frequento di più e altri di meno quindi sono spesso a contatto con la comunità lgbtqia più meno con la comunità di persone con disabilità anche se mi capita sempre più spesso quindi il mio lessico queer è piuttosto preciso perché lo esercito spesso sul campo il mio lessico nei confronti delle persone con disabilità a volte ha dei difetti perché non sono così abituata allora mi ricordo la prima volta che incontro Sofia Righetti che forse conoscete anche lei persona con disabilità che era in carrozzina e io volevo aiutarla ho fatto posto insomma attorno a questo tavolone dove eravamo a Verona c'era ancora Michela Murgia quindi un bel po' di anni fa e ho chiamato la sua carrozzina carrozzella e lei non ha fatto un plissè poi dopo quando eravamo per i cavoli nostri mi fa guarda ti dico solo che carrozzella è piuttosto quella che a Roma e si chiama così quella con i cavalli cioè la carrozza la piccola carrozza quindi noi persone in carrozzina preferiamo che la chiami carrozzina o sedia a rotelle e io ho detto guarda non lo sapevo ho imparato una cosa fine punto non è che ora voi avete le pretese perché è lì poi che tu capisci se sei un umano che si mette in sintonia o no cioè tu hai il diritto di sbagliare tutti sbagliano la scienza si fonda sugli errori sul trial and error quello che poi fa la differenza è la tua reazione quando qualcuno ti fa notare che è sbagliato tu puoi imparare da quell'errore oppure incistarti e dire no mi stai toccando nelle mie parole e non voglio quando è che una parola diventa desueta perché nella parte di vocabolario dove ci sono queste parole antiche e sono tutte parole bellissime in realtà allora io mi chiedo sempre perché abbiamo smesso di usarle perché erano sbagliate perché oh sbagliate oddio sì sbaglio tra l'altro è un'altra parola affascinante perché dentro c'è bagliore quindi luce ed è una svista in realtà lo sbaglio ma la vista dove c'è sempre la vista esatto erano inadeguate a un certo punto o troppo difficili persino troppo precise quello che noi chiamiamo linguaggio comune è fatto di parole logorate che sono enormi ma insufficienti in realtà perché non andiamo mai a ripescare dalle parole desuete parla per te no non credo anche tu le ripeschi non mi hai detto mai rimembranza ti devo dire da quando ti conosco però ho detto i castico dai i castico i castico calvino qui c'è calvino che parla comunque ci sono vari motivi che portano alla defunzione di una parola uno non c'è più il significato il significato legato a quel significante hello so sure non è più così corrente mi viene in mente quando le persone non avevano i soldi per comprarsi gli orologi ma gli operai e le operai dovevano svegliarsi presto allora esisteva un mestiere specifico che era quello dello svegliatore che era una persona che andava in giro con un grosso bastone una canna di bambù e bussava sui vetri anche dei primi o secondi piani delle case per svegliare le persone allora ovviamente poi sono arrivate le sveglie lo svegliatore è andato in disuso ergo nessuno conosce sta parola anche se ha una semantica piuttosto trasparente e così può succedere per le cose legate alla vita dei campi nei campi e dei campi oggi ero a fare alla notte degli ricercatori a fare un intervento sugli incendi e mi ero segnata perché tu non dormi mai tra l'altro non ce l'hai lo svegliatore tu no sono io la svegliatrice di tutti e per esempio io non conoscevo la parola debbio voi la conoscete debbio è antica questo si chiama presbiopia antica pratica consistente nel bruciare stoppie ed erbe tagliate per migliorare il terreno quindi è la bruciatura dei campi no però si è debbio e in toscana si chiama ronco anche questo non lo sapevo esempio però è un esempio di parola oggi desueta perché non andiamo in giro a bruciare i campi così tanto ok allora quello è un motivo il secondo motivo è perché quella parola riproduce una visione che oggi non condividiamo più pensate a razza applicato agli esseri umani razza non è che sia una parola sbagliata è una parola che non è più in sintonia con quello che noi sappiamo dell'essere umano non esistono razze anche etnia mostra la corda perché in realtà anche quello poi c'è un continuum e quindi anche il concetto di etnia è abbastanza traballante però ecco perché una parola tende a scomparire dopodiché c'è un altro settore che è quello dei preziosismi se vogliamo che sono legati o a una cultura specifica o alla lettura alla lettura di testi il più possibile differenti e la verità è una cioè se uno ha una dieta mediatica poco varia il lessico che avrà sarà per forza di cose meno vario quindi qui qui vince chi legge vince chi va all'opera vince chi legge i fumetti vince chi legge autori autrici di ogni genere magari anche senza incistarsi sul fatto che no la fantascienza non la leggo per dire perché poi anche questa cosa dei generi va un po' superata chi guarda le serie tv perché anche quelle sono importanti non le guardo perché ho paura cioè della tendenza guarda quelle corte no 10 puntate quella si può però ti aprono delle interessanti finestre sul presente perché sono prodotti più veloci di quelli cinematografici e quindi sono un bello secondo me rappresentano bene lo spirito del tempo lo zeitgeist molte serie televisive comunque più è varia la tua dieta mediatica esattamente come diceva Veronesi della dieta alimentare più è vario anche quello che tu riesci a produrre in termini linguistici io non faccio grandi sforzi nel cercare le parole ne ho tante a disposizione sono molto fortunata ma perché perché ho studiato no perché quando ero nella fase spugna diciamo nei primi 20 anni della mia vita ho letto tantissimo e ho letto tantissimo perché stavamo in campagna e quegli stronzi radical chic dei miei genitori non volevano neanche la televisione e quindi che fai in campagna adolescente primo amico e a 5 km di distanza leggi io ho letto tutto quello che i miei mi compravano young adult si direbbe oggi ma ho anche letto un sacco di roba che a quell'età forse non avrei dovuto leggere che era nella libreria dei miei non so nella sezione erotica a un certo punto ho scoperto ma avrò avuto 13 anni e ho letto D.H. Lawrence ho letto Harry Miller ho letto c'è roba abbastanza pesante una discreta collezione di questa roba qui anche questo è una fortuna rispetto a una generazione attuale che magari diciamo l'educazione sessuale la fa sui porno no io l'ho fatta su Harry Miller insomma che è un'altra cosa ok e questa roba lì per lì io non ho mai pensato di stare facendo un'operazione di di mietitura di parole di harvesting l'ho capito da grande quando ogni tanto mi chiedo ma chissà dove mi è venuta questa parola e poi mi rendo conto che probabilmente l'ho vista in un libro perché non lo facciamo perché la maggior parte delle persone esclusi i presenti chiaramente ma ha dei dei consumi culturali se non ridotti ma piuttosto monocordi cioè abbastanza uguali a se stessi ieri ieri sera ero a Telese Terme comincia il Benevento vi posso dire che sono otto ore di treno da qua l'ho appena scoperto e sono stata interrogata su Grammamanti da sei ragazzine fra i 14 e i 16 anni il casino che questi hanno creato non ve lo sto a dire ma ma mi hanno anche aperto la testa su una serie di prospettive assolutamente diverse da quelle a cui sono abituata e una delle cose su cui loro tornavano spesso è ah ho imparato un sacco di parole dal tuo libro parole che non avevo mai sentito come mai invece noi spesso usiamo sempre le stesse parole anche dei moduli che vengono tanto dall'inglese notavano loro e gli ho detto per esempio uno dei motivi è il doppiaggese noi guardiamo tante cose noi voi perché io no ma in Italia si guardano molte cose doppiate e il doppiaggese ha creato delle strutture linguistiche che in italiano non esistono per esempio open the fucking door no? apri quella fottuta porta non si dice in italiano cioè noi diremmo altro tipo apri quella porta del cazzo se voglio essere volgare ma non direi fottuto ecco fottuto o dannato dannato in italiano non esiste in quel modo lì cioè sono dannatamente stanca non è una cosa che in Italia si dice o vuoi per far entrare una persona dalla porta noi diciamo prego perfino il sì che diciamo al telefono viene dal doppiaggio credo che abbiamo sempre detto pronto e invece sì torna meglio evidentemente per il labiale non lo so mi sta venendo in mente mi stanno venendo in mente mentre parli i sinonimi sì allora questa è una cosa che a me affascina da morire perché io sono convinta che i sinonimi non esistano e che siano proprio una fonte di errore appunto e io non so se voi ve lo ricordate ma il dramma del del sinonimo che ahimè i giornalisti avevano trovato e ovviamente era sbagliato a vaccino durante il covid il siero cioè è stato è stato un disastro e quello da che cosa nasceva? dal fatto che una delle regole che ti insegnano nelle scuole di giornalismo è la variazio e che non puoi ripetere io ogni volta che devo fare un titolo cioè se nel titolo ho traduttore nel catenaccio dove devo far capire di cosa parla il titolo non posso usare traduttore ma traduttore è il traduttore cioè come fai a trovare un sinonimo di traduttore e lì cominciano degli errori e i fraintendimenti allora questo ti volevo chiedere possiamo uscire da qua dando almeno una regola so che non ti piacciono però che il sinonimo non esiste è una grande balla vabbè la balla è pensare che vogliono dire esattamente la stessa cosa infatti c'era un libro di eco che era dire quasi la stessa cosa che era molto bello come titolo ed è vero? cioè i sinonimi non sono mai quasi mai sinonimi perfetti ma di solito variano o per registro o per diatopia cioè sono legati a zone diverse del paese o contesti socioculturali o tempo no? cioè la versione più antica è quella più moderna ma è molto difficile che le parole siano perfettamente intercambiabili quindi l'errore non è che non esistono i sinonimi i sinonimi esistono l'errore è pensare che siano paspartout che siano paspartout perché non lo sono e vabbè e poi c'è un'altra questione che forse è un po' un tecnicismo ma magari va detto è divertente cioè così come abbiamo più parole per descrivere più o meno la stessa cosa così possiamo avere una parola che ha tantissimi significati diversi per esempio a seconda del contesto ed è un momento storico questo che in virtù di questa volontà di comprensione chiara delle cose noi consideriamo molto poco il contesto invece il contesto è essenziale per esempio quando chi segue amare parole lo sa mi ripeto quando Papa Francesco ha detto frociaggine e è venuto giù oddio come fa il Papa ma il Papa probabilmente quando si chiude il dito nella porta dice di cose molto peggiori di così cioè io non ci vedo neanche il Papa che dice per dindirindina se si pesta il ditone ok spero per lui anche perché quelli sono momenti di esplosione verbale ma il problema la crisi l'indignazione veniva fuori dal fatto che nessuno parlava del contesto in cui il Papa aveva detto quella cosa lì che non era un contesto pubblico era un contesto era conferenza episcopale comunque era un contesto non pubblico ristretto in cui lui probabilmente si sentiva abbastanza rilassato da usare una parola del genere non aspettandosi che qualcuno l'aveva registrato e per cercare fondamentalmente di metterlo in cattiva luce avrebbe diffuso quella roba urbi e torbi il contesto è essenziale che è vero che abbiamo sentito fior di politici dire sono stato decontestualizzato beh certo sì 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 cioè l'indulgenza plenaria e vabbè e questo però a proposito di uso consunto delle cose a proposito vabbè c'è anche una scusa vecchia come il cuco quella sono stato frainteso però per dire anche una persona come me che è gioco forza molto esposta che il peso delle parole lo conosce ma le cappellate le fa cioè di misurare male per esempio il polso di una situazione e di dire la cosa fuori posto succede perfino a me che dovrei avere un esercizio ormai no e invece no a dimostrazione del fatto che lingua le parole sono come la nitroglicerina cioè le puoi usare per aprire una galleria le puoi usare per radere al suolo il circolo dei lettori quindi dipende molto da come usi la nitroglicerina però le parole sono pericolose di per sé anche quando non lo sembrano per esempio pensate a signora come può venire usato in maniera derogatoria offensiva mi ha fatto molto ci ha fatto molto caso con la storia di di Maria Maria la boccia ok Maria rosaria scusami era troppo Maria Teresa colpa tua ho pensato a Maria Maria Rosaria boccia e tanti hanno scritto questa signora ma cioè perché non potevano dire apertamente donna di malaffare diciamo così no però c'era un tale odio in quel questa signora eh quindi neanche da dire facciamo la lista delle parole vietate e arriviamo alla pace nel mondo perché anche a me chi è questa signora questo quando va bene se no è chiesta raccattata mi capita anche quello però io questo uso di signora offensivo lo noto tantissimo quindi perfino quando pensiamo di avere chiara la semantica di una parola quella parola può venire usata in modi diversi e lì poi c'è la nostra volontà la nostra capacità di scegliere le parole perché non ci capiamo cioè perché è diventato così difficile dialogare e ti chiedo se può avere a che fare lo devo fare faccio come gli certi intervistatori vecchi che danno la colpa al politicamente corretto e ai però le parole hanno dei mezzi noi le usiamo con dei mezzi e io credo che i social che io ho usato e uso tantissimo e di cui conosco la portata buona però hanno fatto una cosa sbagliata cioè sui social tutte le cose che noi diciamo sono soggettivate per cui non è mai impersonale quello che tu dici cioè anche se riporti un articolo della Costituzione è come se lo dicessi tu quindi sono io ed è evidente che la risposta del pubblico è sempre questo lo dici tu quindi è come se tutto fosse diventato è come se in quel processo avessimo perso i cosiddetti impliciti culturali comuni io noto un po' questo che non ci capiamo perché è come se avessimo perso delle basi comuni e forse questo dipende dal fatto che tutto è diventato opinabile ti chiedo se è così e se può avere a che fare con anche i social che ci hanno resi re e regine demiurghi un po' della realtà anche se non lo siamo allora io avrei detto anche l'inverso cioè così come tu dici si arriva a una iper soggettivizzazione per cui tutto quello che diciamo lo dici tu e mi devi portare le prove anche di quello che dici tu d'altro canto tutto quello che io dico anche come soggetto e magari non come personaggio pubblico viene oggettivizzato per cui diventa una dichiarazione no? mi viene in mente qualche settimana fa Dario Bressanini che conoscerete ha scritto un commento assolutamente scemo perché è una roba che fra noi amici sta andando avanti da anni in cui diceva io le donne con le Birkenstock proprio non le tollero sono inguardabili ma a parte che io ho solo Birkenstock praticamente cioè adesso finalmente ho le scarpe chiuse ma sì 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 però io vuoi salire a vedere la mia collezione di Birkenstock cioè siamo a quei livelli un po' inquietanti ma io ho riso ho visto sta cosa di Dario conoscendo Bressanini io riso la giorno dopo ero a un evento pubblico e la classica ragazzina femminista un po' incazzata alza la mano e fa cioè perché vogliamo parlare di questa espressione del patriarcato che ha detto Dario Bressanini che le donne con le Birkenstock non sono scopabili cioè questa è una cosa gradissima ma non scherzo cioè non facciamo una dichiarazione universale dell'odio dei maschi contro le Birkenstock io c'ho avuto anche uno che diceva le donne con le ballerine non si possono guardare ho sempre messo le ballerine quindi chi se ne frega però no tu dicevi la soggettivizzazione io dico a volte anche l'oggettivizzazione però secondo me il problema principale i problemi principali sono due uno il collasso del contesto nessuno si cura più del contesto in cui avvengono le cose quindi che tu le dica nella chat di whatsapp che tu le dica in parlamento salamem shows è tutto brasato sullo stesso livello no quindi io ti porto uno studio scientifico tu mi rispondi con un articolo peraltro bellissimo di Guia Soncini sull'inchiesta li vogliamo mettere sullo stesso piano secondo me no perché uno è un articolo di costume uno è un saggio scientifico tratto da nature avranno un peso diverso no per la giantizia classica spesso sono esattamente sullo stesso livello l'altra questione è quella che ricitando eco vabbè lui la metteva nei termini di imbecilli diceva internet ha dato la parola legione di imbecilli eccetera quello che è divertente è che di solito sono le persone che sono sui social che condividono questa massima senza rendersi conto che stanno parlando anche di se stesse cioè tu fai parte di quella legione di imbecilli per cui io non condivido quella massima ma vabbè ma internet ha dato di parola a tutti a tutti e una cosa che noi però non sappiamo ancora ben governare è l'essere personaggi pubblici cioè tu io chiunque in questa sala se dice la cosa che diventa virale da ora da oggi a domani diventa un personaggio pubblico e quella in realtà i personaggi pubblici studiano per rimanere pubblici sanno cosa possono far vedere sanno cosa è meglio nascondere sanno che se si mettono un dito nel naso sul terrazzo di casa loro probabilmente c'è un paparazzo che li becca la gente comune questo problema non se l'è mai posto e invece succede anche alla persona a caso che si mette due falangi nel naso viene fotografata e diventa virale magari sotto forma di meme avete mai pensato ai meme quelli che prendono in giro le persone quelle persone hanno un nome e cognome sono qualcuno e sono diventate un meme quindi questa dimensione pubblica delle nostre azioni linguistiche è nuova è nuova azioni comunicative e perché prima era più facile perché noi ci relazionavamo in ambienti più ristretti cioè avevamo casa famiglia lavoro amici ma quando mai ti capitava di salire su una pedana e parlare a milioni di persone potenzialmente a milioni di persone questa è una cosa nuova e quindi non è che noi siamo rincitrulliti o internet ci ha fatto rincitrullire siamo acerbi utenti della complessità comunicativa e da acerbi utenti siamo un po' come i neopatentati alla guida di una Ferrari possiamo potenzialmente combinare dei casini enormi pensa alla ristoratrice che si è fatta la finta recensione buona e poi quando è arrivata addosso la shitstorm non ha retto e si è suicidata cioè questo è un caso estremo ma non è un caso insolito cioè una persona che da oggi a domani diventa un personaggio pubblico e non regge e questo è qualcosa che dovrebbe metterci in guardia dall'usare i social con leggerezza indubbiamente dobbiamo imparare a usarli meglio vecchi giovani junior senior e indubbiamente la strada non è vietare l'uso dei cellulari a scuola secondo me perché cioè dove glielo insegni chi deve insegnare come si usano i social o i mezzi digitali ci deve essere un minimo di sinergia fra famiglia e scuola perché molto spesso la famiglia non è in grado di insegnare davvero delle cose o di dare un exemplum diciamo davvero importante quindi vabbè ci sarebbe da fare mille discorsi su questo però non so a che punto siamo abbiamo finito cut the shit ci stanno dicendo ok perché la cosa che quel caso lì io me lo ricordo molto bene e mi ricordo che avevo pensato che forse noi dovremmo educarci a un'idea precisa che è il fatto che siamo pericolosi e io credo che il lavoro che tu fai sul linguaggio il modo in cui parli della comunicazione lo dimostri cioè il fatto che le parole possono ferire e che quindi la parola che è una delle cose più immediate uno dei primi strumenti di cui veniamo dotati tutti è pericolosa ci deve dare la misura di quanto possiamo essere pericolosi inconsapevolmente forse questa è la cosa più importante noi non abbiamo contezza di quanto possiamo ferire senza armi sì io ci metterei anche una spolverata di pensiero religioso che noi dovremmo ricordarci quella cosa del chi è senza peccato scagli la prima pietra e invece molto spesso noi partecipiamo a dei moti di indignazione subitanea molto veloce che per molte persone è un mero passatempo ma per la persona che è dall'altra parte può voler dire la fine di una carriera o la distruzione di una reputazione io io non praticamente mai partecipo a questo tipo di movimenti e con l'auta anche perché perché non è giusto perché tu stai troppo poco per metterti lì sul predellino a giudicare e quindi questa è la prima cosa la seconda io dicevo prima fra le righe più o meno fra le righe che sono molto esposta non mi dispiace ho la fortuna di essere online da 30 anni e quindi in 30 anni la pellaccia me la sono fatta però io qualche tempo fa di fronte a un consesso di persone molto più giovani di me divulgatori divulgatrici ventenni ho detto un'altra cosa ho la fortuna che tutto quello che mi sta capitando mi capita a quasi 50 anni se mi fosse capitato a 20-25 non so se avrei retto quindi ho la fortuna di essere più grande ricordatevi sempre che l'accumulo di parole per una qualsiasi persona che sia una Ferragni che sia una Giantizia nessuna sono ugualmente pesanti e quindi e questa è una responsabilità condivisa di ogni membro della società cioè non sono solo i giornali i media no siamo noi anche con il nostro comportamento di tutti i giorni che influiamo sulla qualità anche del mondo comunicativo nel quale poi viviamo e nel quale siamo un po' costretti ad abitare grazie ti faccio una domanda dolce così andiamo a casa tutti con una nota dolce abbiamo finito vero? non è più tempo allora ma è vero che in ungherese perché Vera ha parte delle sue molte identità c'è anche il comparto ungherese l'ungherese è l'unica lingua in cui ti amo si dice con una sola parola questa cosa me l'ha detto una volta Bruno Ventavoli che i torinesi presenti sanno bene chi è che ha curato tutto i libri per molto tempo seretlek sì però però sì ma perché l'inglese l'ungherese è una lingua agglutinante quindi in quel seretlek c'è tutto cioè io amo te però in ungherese c'è solo una parola perché noi siamo l'ungherese è anche una lingua che quando la traduci esplode quindi siccome io traduco dall'ungherese una pagina in ungherese diventa almeno due in italiano quindi se vi viene da far tradurre un romanzo sappiate che se è di 700 pagine diventa di 1200 questo provato per voi sul campo e questo è il motivo seretlek io ti amo bellissimo grazie che cosa hai detto grazie grazie vera again simonetta shandivashi gloria locale grazie 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 a tutti